Ascoltiamo un contributo di Claudio Cassardo da Climalteranti.it Laureato in Fisica a Torino nel 1987, Dottore di Ricerca in Geofisica a Genova nel 1991 e Professore Associato presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Torino dal novembre del 2000 Oggi vorrei prendere spunto dalla notizia apparsa in questa settimana che riguarda la Scandinavia, in particolare la parte meridionale di Svezia e Finlandia in cui in questo inverno si stanno sperimentando temperature molto superiori alle medie del periodo e praticamente raramente registrate in precedenza a livello di media In molte località della Svezia e della Finlandia meridionale le temperature medie dell'inverno sono state superiori a zero gradi Per esempio a Stoccolma abbiamo le medie di ottobre intorno ai 7 gradi di novembre inferiore ai 4 gradi di dicembre sui 2 gradi e mezzo di gennaio sui 4 gradi mentre diciamo che la media invernale dovrebbe essere sotto zero raramente le minime sono scese sotto zero si parla di meno di 10 giorni al mese sempre per la città di Stoccolma come conseguenza i laghi rimangono non ghiacciati e ci sono tutta una serie di fenomeni a cui gli scandinavi sono poco abituati la fotografia che ha fatto notizia in questi giorni è quella dei ciliegi in fiore nel centro di Stoccolma diciamo che questa è la classica ciliegina della torta adesso che un singolo albero sia fiorito può essere anche un fattore accidentale ma resta il fatto che le misure di temperature confermano che quello scandinavo almeno fino a oggi è stato uno degli inverni più caldi anzi probabilmente il più caldo da quando si registrano le serie di misure questo ci fa ricollegare al fatto che ormai da molti anni abbiamo osservato che il cambiamento climatico ha fatto aumentare la temperatura media del pianeta Terra ma gli aumenti sono stati rilevanti proprio nelle regioni più a nord dell'emisfero nord ad esempio negli ultimi anni a nord del circolo polare artico si sono registrate anomalie di temperatura cioè valori di temperatura rispetto alla media anche superiori ai 6 gradi contro un valore medio di riscaldamento globale nell'ultimo secolo di un grado su tutto il pianeta Terra quindi notiamo che le regioni artiche e comunque le latitudini alte dell'emisfero nord stanno subendo dei ratei di riscaldamento che sono molto superiori rispetto alla media globale del pianeta praticamente l'artico è a tutti gli effetti un punto caldo del cambiamento climatico punto caldo nel senso di sensibile ma punto caldo anche perché si registra un riscaldamento in ormai quasi tutti gli inverni ci sono dei periodi che sono estesi da qualche settimana a mesi interi in cui in località tipo le Svalbard non si vede neve al suolo e questo è abbastanza inusuale ricordiamo anche che comunque la neve esercita un fattore protettivo per cui l'assenza di neve fa sì che le temperature degli strati superficiali di suolo possano diminuire maggiormente perché non c'è l'effetto della protezione della neve ovviamente tutti questi fenomeni possono avere delle ripercussioni anche abbastanza ingenti su fauna e flora il fatto per esempio degli alberi che tendono a fiorire in maniera anticipata può avere ripercussioni sull'intero ecosistema perché non è detto che gli insetti impollinatori abbiano lo stesso picco di frequenza degli alberi e quindi si rischia di creare uno sfasamento tra il picco di nascite degli insetti e il picco della fioritura col risultato che poi magari gli insetti non hanno a disposizione i fiori quando ne avrebbero bisogno questi sfasamenti ecologici si sono già registrati diverse volte in natura come conseguenza del riscaldamento climatico e vanno considerati tra gli effetti abbastanza gravosi per quanto riguarda le piante stesse comunque visto che in Scandinavia può essere possibile in ogni momento un'ondata di freddo per esempio a causa della rottura del vortice polare eventi di fioritura anticipate potrebbero sottoporre le piante a degli stress in quanto si potrebbe creare il cosiddetto effetto bottiglia con lo squarcio dei tronchi se si dovesse verificare una intensa e prolungata ondata di gelo magari tardiva in ogni caso quello che sta succedendo nelle località settentrionali dell'emisfero nord ci fa ricondurre il discorso anche a quanto sta succedendo sulle nostre montagne perché in fondo l'ecosistema alpino ha qualche punto in comune con il clima delle latitudini settentrionali le nostre montagne stanno sperimentando un regresso dei ghiacciai che dal 1850 hanno ormai perso oltre i due terzi del loro volume di ghiaccio gli inverni stanno facendo vedere molti casi di eventi piovosi anziché nevosi molto spesso tende a piovere sulla neve lo zero termico va a collocarsi ad altitudini anche superiori ai 3000 metri soprattutto nel caso di flussi sciroccali i flussi sciroccali ci sono sempre stati ovviamente però nei nostri giorni sono più intensi e più caldi e quindi l'altezza della quota in cui la neve si trasforma in pioggia tende a innalzarsi e quindi le regioni alpine sono sottoposte a precipitazioni piovose la pioggia può contribuire a fondere la neve o comunque non la fa accumulare per cui le riserve di nevai tendono a essere più piccole questo è un tipico effetto che ci fa dire che le montagne le nostre montagne sono le sentinelle del clima che cambia sono dei posti anche qui dei punti caldi del cambiamento climatico in quanto già il bacino del Mediterraneo lo abbiamo detto in un'altra occasione è un punto caldo nel senso che i cambiamenti climatici sono più sensibili per dire l'aumento delle temperature medie sul territorio nazionale italiano è stato di circa due gradi nell'ultimo secolo contro un aumento di circa un grado a livello globale quindi già si vede che l'Italia risente di più del riscaldamento le montagne risentono ancora di più in parte per l'effetto ghiaccio albedo cioè la fusione dei ghiacci e delle neve fa sì che la terra sia in grado di assorbire un maggiore quantitativo di radiazione e di scaldarsi maggiormente ma un po' anche per l'effetto proprio di modifica delle correnti naturalmente è ovvio che quando si assiste a una fusione nivale anticipata cioè il manto nevoso tende a durare meno si forma più tardi e tende a fondere prima questo ha tutta una serie di conseguenze per esempio ovviamente la fusione della neve va a ingrossare i fiumi questo succede normalmente in primavera ma se è in anticipo quello che potrebbe succedere è che poi la neve viene a finire in estate quando invece c'è bisogno di risorse idriche soprattutto per l'agricoltura ma anche per le nostre vite quindi si rischia che la neve sia già finita quando serve di più poi pensiamo anche al degrado del permafrost in montagna ovviamente se fa più caldo il permafrost sparisce e quindi il permafrost essendo contribuendo alla stabilità del territorio alpino se va a sparire ne riduce la stabilità quindi dando innesco a episodi franosi ogni qualvolta si ha a che fare con poi precipitazioni intense abbiamo già parlato della biodiversità alpina ma un aspetto può essere utile considerarlo riguardo alla biodiversità se le temperature aumentano le fasce climatiche tendono a spostarsi più in alto e quindi anche gli habitat tipici delle specie vegetali e animali tendono a spostarsi più in alto se riescono a star dietro al cambiamento climatico in questo spostamento perché per esempio le piante non hanno le zampe non possono muoversi come possono fare gli animali e comunque c'è da tenere presente che visto che man mano che si sale verso le cime delle montagne la superficie diminuisce uno spostamento verso l'alto degli habitat ha come conseguenza il fatto che si riduce la superficie a disposizione delle specie quindi comunque si riduce l'area dell'habitat di queste specie senza contare il fatto che poi le specie che abitavano già alla sommità della montagna se il clima si riscalda e quindi le fasce si spostano verso l'alto come si suol dire va in cielo cioè si estingue perché non ha altre possibilità o si adatta oppure non trova più il suo habitat giusto e quindi va in estinzione come dicevamo soprattutto la fusione di neve e ghiacci ha effetti ingenti sulle risorse idriche questi effetti sono una diminuzione delle risorse idriche soprattutto nelle stagioni più calde quindi tarda primavera estate inizio autunno questo ovviamente può avere come conseguenze periodi di siccità più frequenti ed episodi più intensi con conseguenze di carestie e anche di diciamo di momenti favorevoli allo sviluppo di incendi dalle nostre parti non è come in Australia gli incendi sono quasi tutti diciamo di origine dolosa o colposa nel senso che sono prodotti dagli esseri umani e non da fenomeni naturali come i fulmini tuttavia le condizioni favorevoli alla propagazione e allo sviluppo di questi incendi possono aumentare quindi aumenta il rischio che si verifichino questi questi eventi d'altra parte abbiamo parlato di fusione anticipata della neve dei ghiacci e quindi si rischia che il picco di fusione si avvicini al picco delle piogge primaverili e questo anche può avere riflessi sulle risorse idriche in quanto fusione della neve più precipitazioni intense nei momenti di precipitazione si può assistere paradossalmente al rischio di al maggiore rischio di alluvioni da precipitazioni intense con tutto ciò che ne consegue l'alluvione non provoca soltanto gli allagamenti in città la pioggia alluvionale ma può provocare anche episodi franosi di dissesto idrogeologico sul territorio che quindi ha delle conseguenze anche questo sulla rimodellazione del territorio e ovviamente tutto ciò ha come conseguenza che ci sono riflessi sulla produttività agricola teniamo conto che già adesso come media globale l'agricoltura utilizza quasi il 70% delle risorse idriche quindi è evidente come ci sia una forte correlazione se le risorse idriche diminuiscono si va verso la siccità tende anche a diminuire la qualità dell'acqua qualità dell'acqua che è importantissima sia per l'agricoltura ma sia anche per per la nostra vita quindi si rende necessario trovare acqua più pulita insomma come vediamo ci sono tutta una serie di effetti noi siamo partiti a parlare del del caldo anomalo che si è verificato in questo inverno in scandinavia e abbiamo iniziato tutto un discorso che ci ha portato a concludere che ci sono effetti anche in zone molto più vicine a noi per esempio sulle nostre alpi effetti che possono produrre delle modifiche anche importanti su per esempio le risorse agricole quindi sulla nostra vita sono effetti del clima che cambia dobbiamo prenderne atto perché ormai il cambiamento del clima si è già verificato si sta verificando e si verificherà ancora di più perché i gas serra sono in aumento abbiamo già parlato un'altra volta di questo fatto quindi dobbiamo prendere atto dovremo adattarci possiamo lavorare sulla mitigazione ancora per alcuni anni ma dovremo lavorare ancora più seriamente fortemente sull'adattamento perché questi cambiamenti ci sono e quindi se riusciamo a fare in modo di adattarci avremo preso le nostre contromisure e potremo subire delle conseguenze meno gravose attaccare 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 Grazie a tutti.